La provincia di Novara aderisce alla campagna del Ministero della Salute contro l'abbandono degli animali di affezione. Partiamo con due eventi. Sabato prossimo in Piazza Puccini, ore 16, presenteremo tutto il materiale che abbiamo stampato. Materiale che nell'ordine porta tutte le leggi sulla tutela degli animali, poi un bellissimo Deplian, prenota anche per me, dove in collaborazione con l'ATL Consorzio dei Laghi elenchiamo tutti i siti dove possiamo ospitare i cani, tutti gli alberghi, i ristoranti, la provincia di Novara. È importante viaggiare come turisti ma avere anche il proprio cane o gatto, non abbandonarlo, non lasciarlo a casa, ma portarselo con sé. E noi abbiamo voluto dare un'opportunità in più ai visitatori, ai turisti e far conoscere anche quali sono gli alberghi che ospitano questi animali. I cani o i gatti. E ultimo non ultimo una cartolina. Siccome si parla sempre dell'abbandono degli animali durante il periodo estivo, vogliamo ricordarci invece il periodo natalizio. Questa campagna non scartateci è perché molte volte, io padre, mi ricordo quando mio figlio mi chiedeva il cane, molte volte per soddisfare i bisogni dei bimbi facciamo dei regali che poi non possiamo tenere fede durante i mesi successivi. Per cui esortiamo quando si compra un cane o un gatto, si adotta un cane o un gatto da un canile, fatelo sapendo che è un essere vivente a cui bisogna porre la massima attenzione.